Si avvicina il quarto pareggio consecutivo per i Liguri, ma non è finita, altra balla dentro! 2-1! Pavoletti! Non è possibile! Dopo un minuto tornano avanti i Liguri con il gol dell'ex di Leonardo Pavoletti! Sì, impazziscono tutti! Non è possibile! Non ci credo! Una roba mai vista! Riuscite a credere a quello che avete appena visto, io non lo so! Sì, impazziscono tutti! Sì, impazziscono tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti